Ci troviamo a Taranto, nel Borgo Antico, nella città vecchia, più precisamente in Piazza Fontana. Doveva essere il fiore all'occhiello del Borgo Antico, ma già la Fontana è brutta, proprio stilisticamente. Ma lasciamo perdere questo aspetto, guardate il degrado in cui si trova. L'acqua sembra di essere dinnanzi ad una palude, sembrano acque della palude. Guardate i rifiuti che galleggiano, buste di plastica e quant'altro. C'è di tutto di più, cartacce, bottiglie di birra. E' davvero un quadro penoso. C'è l'inciviltà di chi sporca. Ma, Assessore Lonucci, Assessore dei lavori pubblici e Vice Sindaco, l'amministrazione deve intervenire. Non si può tollerare questo scempio. Come si può parlare di Taranto, candidata a Capitale Italiana della Cultura, se poi vediamo queste immagini di degrado, di abbandono e di decozione. Ma il quadro è ancora più penoso dall'altro lato. Che tristezza. Bottiglie rotte, bottiglie sane e addirittura qui cartoni stratificati. E' una situazione incredibile. Non so per quale ragione il borgo antico di Taranto crolli a pezzi. E invece Lecce, Bari, il loro centro storico, veramente è un fiore all'occhiello. Assessore Lonucci, intervenga.